Intervento duro e immediato della Polizia di Stato di Udine che ha eseguito l'espulsione per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di un cittadino algerino residente a Udine. Un'espulsione disposta dal Ministro dell'Interno è avvenuta nella serata del 30 aprile nei confronti di Amor Branes, cittadino algerino 56N residente a Udine, sul cui stato di indagine c'erano precedenti di polizia per violazione della normativa sul soggiorno e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Lo stesso, che viveva senza familiari in un appartamento a Udine, ove svolgeva prestazioni lavorative, quale operaio per conto di una cooperativa di servizi di pulizie, è stato espulso a seguito di un'attività di indagine svolta dalla Digos di Udine sotto il coordinamento della DCPP e della Procura Distrettuale di Trieste per il reato di stigazione a delinquere. In ordine alla pubblicazione sui social network, in particolare le pagina Facebook e canali Telegram, di materiale inneggiante ad Hamas, ai movimenti terroristici legati al conflitto israelo-palestinese, che lo hanno reso, secondo il Ministro, una minaccia per il Paese, facendo probendere per l'espulsione immediata dall'Italia.